e benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di odyssey della foresta rossa allora mak è in giro qui da qualche parte dove il cavolo sarà mai vediamo se cos'è una miniera non so perchè ma mi sa che è qui dentro eh vediamo santuario del mago e se ha un salvataggio meglio salvare mi sa tanto che mak lo incontro alla fine qui da qualche parte giù guarda che vale questa cosa mi ricorda il final fantasy le prove per arrivare alle cose delle evocazioni ragazzi che creature cielo di fiamma trago delle piante trago delle piante acqua 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 e bobbo d'acqua alla salute ecco fatto ha bevuto troppo che è affogato linea di fiamma ah una mina eh vai col fuoco allora mettiamo i due compatibili dell'altro ecco fatto ecco fatto forse l'anima era non mi ricordo il final fantasy vabbè vado con terra bomba di terra bomba di terra bomba di terra vabbè ah sono il migliore vabbè se vuoi crederlo credilo non c'è niente di male a credere una cosa simile giusto? trattore del mago prigione a riprovino mi sembra di essere Indiana Jones oh cavolo 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 che caduta ammortatis veramente è stata una caduta di quelle adesso muoio non puoi non so portami già lì eh ok devo stare sentita queste cavolo di pietre un po' mica ecco vai 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 si andiamo ok questa è evitata oh chiaramente qua niente no ecchi uffa uffa ora mi gioca di cominciare da lì o no ah no un baule comodo che c'è dentro quadrifoglio ah un po' di fortuna serve non credo di dove andare di qua cavolo direttiamoli di pietra no io non devo andare dove sta quella porta ecco ok non andrei in mezzo allora ma è allucinante questa cosa di cadere così veramente è allucinante eeeh ma è anche una battaglia quanto che il curve è veramente carino ok qua fuga c'è un pokemon ecco potete averlo potete avere lui però che è odioso ok qua devo curarmi vale allora ecco fatto pietra è prestinata ok portami lì che devo andare in mezzo almeno io penso che devo andare in mezzo 1 2 via no ok proprio così così appena va io lo seguo se ho capito come fare credo allora via la pietra così non si attiva e poi ok eccomi qua eeeh non so cosa da questo qui salvo si apre non si apre forse quel cosa lì quella torre lì posso fare qualcosa no non posso spostarla ah sì posso posso attenti lì sotto ok ora devo solamente azionare il meccanismo vai pietra goooool come aprevo la porta sì affrettiamoci va forse adesso troverò mac finalmente mi sa tanto che l'ho trovato altare abistica mac mac è forse luto aspetta ma mi sta chiamando mac è posseduto dalla foresta se ti avvicino troppo questo potrebbe succedere anche a te io devo sarparlo no brutta idea marco presa brutta idea la devo detto forza andiamo ok questa parte è un po' critica ok ok cominciamo ok che devo attaccare i tic taccoli tu da questo così la salvo e lassala a salvo o col fuoco allora No, meno male Fiamma Fiamma Prendezza Oh spirito, sai che sei veramente odioso? Vai con un prisma Non va bene, non va bene, non va bene Ah, sei solo forse di bella con cosa Ahia, se serve anche... eh, fatica con cruza Cavolo E purtroppo qua si perde se poi lei viene tutta la vita disocchiata, cavolo È un pezzo abbastanza, come ho detto, critico questo Purtroppo, è anche difficile Beh, raga, io direi che questo è l'episodio di Lost Odyssey, direi che può anche finire qua E ci vediamo al prossimo dove sovrò Mac e Cook Così poi finirà anche la prima parte... finirà il primo disco e passeremo al secondo disco Della Collection Quindi, ciao Ciao Ciao